lo sport in collaborazione con un'ondata di freddo intenso è arrivata sotto in queste ore neve copiosa al nord vera dure gelide a causa del forte vento che per tutta la giornata temporali hanno sferzato gran parte dell'italia una notizia bella mai è stufe pellet made in citrea a casa tua arriva il caldo buono ma grazie citrea produciamo direttamente pellet e stufe di altissima qualità ad alessandria siamo in via giordano bruno 168 citrea scalda arreda e ti fa risparmiare il tabù del gol sembra superato per l'alessandria calcio ma l'attacco della carrarese troppo forte pure per una difesa grigia ben compatta ha trafitto ben tre volte cucchietti e la doppietta di santini non è servita agli uomini di d'agostino per incammerare punti preziosi l'alessandria si è presentata in buona forma si è vista negare un rigore ma nulla ha potuto contro i più quotati avversari un attimo io non voglio parlare di ardi te ripeto ma nei primi minuti anche ad alza che vi è successo ma i ricori non parlati perché quello è netto è ricore netto cambia lo potete cambia lo potete cambia lo potete sbaglio no perché sennò io poi divento cambia lo potete io non voglio fare voglio costruire cercare di cercare di rimanere mezzo pieno però i primi minuti perché non si danno i ricori se sono a forza io mi saprei perché non si danno i ricori in caso in caso ma comunque poi siamo stati bravi a reagire dopo l'errore nostro perché se vi ricordate bene prima della prima del prepartita conferenza prepartita ho detto non dobbiamo sbagliare perché davanti hanno gente spietata e noi il primo errore perché prima del tempo non abbiamo commesso errori ci hanno fatto bene perché hanno giocatori questi bambini cambiava 2 a 2 ogni 3 minuti entrava l'attaccante quindi mentre i nostri ripensori erano tra virgolette da fanno per 90 minuti l'attacco della canarese era sempre fresco perché entrava 2 a 2 c'era sempre il ricambio anche generazionale e questo facilita un po' è normale che facilita un po' poi siamo stati bravi nel 3 a 1 ma riprendere 3 a 2 e poi è normale i ragazzi hanno cercato di pareggiare la partita però è normale quando poi si chiedeva prima della partita attacco contro difesa diciamo che i due attacchi oggi hanno vinto che hanno fatto 5 logo e quindi la nostra difesa fermo le stando che nessuno dei ripensori ha commesso errori però sono partite che ci possono quando incontreremo l'antella incontreremo il Piacenza sono squadre che magari non giocano un calcio di via ma hanno giocatori che determinano i 90 minuti quindi al minimo errore ti fanno male Grigi attesi prontamente a riscatto già mercoledì prossimo alle 20.30 a Vercelli il secondo turno di Coppa Italia si giocherà a Pro Vercelli e Alessandria Lo Sport in collaborazione con Temperature gelide a causa del forte vento che per tutta la giornata I violenti temporali hanno sferzato gran parte della vita Una notizia bella mai eh Stufe e pellet made in Citrea A casa tua arriva il caldo buono La precisione, la cura dei dettagli, la sicurezza e la qualità dei materiali sono i punti cardine dei nostri serramenti in PVC e alluminio Gollo Serramenti Proteggi la tua casa e vivila con chi ami Gollo Serramenti 40 anni d'esperienza A Silvano Dorpa e Acquiterme